Sono fanco delle sue bugie, ingegnere, io me ne fotto dei suoi gusti in fatto di sesso. Sono affari suoi, io voglio solamente sapere se ha visto la ragazza molto alta. No, ho detto di no. Vuole che cominci a urlare, ingegnere, che faccia sapere a sua moglie e ai suoi amici chi è lei di che cosa ha bisogno per eccitarsi? Di donne diverse per il colore della pelle, per l'altezza o per qualunque altra idiozia frutto del suo cervello malato. Io non sono malato, ma questa ragazza lo è. Ha il cervello di una bambina di tre anni e lei se ne è accorto, o quantomeno si è accorto che era strana. Ma l'unica cosa che ha saputo dire è che era una cannonata. Una cannonata. Che schifo. L'ho vista una volta sola. Quando? Un mese e mezzo fa, mi sembra. Qual è l'indirizzo della casa?